Il Consiglio regionale della Campania approva all'unanimità la nuova disciplina in materia di oleoturismo. Il testo normativo, nel recepire linee guida e indirizzi in merito a requisiti e standard minimi per l'esercizio dell'attività, interviene nell'ordinamento regionale integrando il turismo dell'olio alle altre forme di turismo rurale già esistenti. La proposta di legge definisce, tra l'altro, le attività formative e informative rivolte alle produzioni locali e promuove la conoscenza della cultura olivicola del territorio campano. Ai nostri microfoni il commento del Consigliere regionale d'Italia Viva, Tommaso Pellegrino. Sicuramente una proposta di legge importante in uno dei territori dove l'olio rappresenta una delle eccellenze che abbiamo. Basta pensare che nella capitale della dieta mediterranea l'olio rappresenta sicuramente la componente più importante, non perché è buono ma perché è ricco di antiossidanti, ma anche confrontato con altri oli andiamo a vedere il valore del nostro olio. Inoltre abbiamo visto negli ultimi anni un aumento esponenziale della produzione proprio di olio e sono tanti anche i giovani che hanno investito negli oliviti. Allora con questa proposta di legge noi andiamo non soltanto a valorizzare il patrimonio rurale che è presente nei territori campani, andiamo a valorizzare tutti quei colori che hanno investito e tanti giovani che hanno investito nel settore olivicolo. Inoltre abbiamo puntato anche l'accento sulla parte riguardante la formazione. La formazione perché oggi stanno sparendo un buona serie di figure, delle figure importanti che nella filiera dell'olio sono figure centrali per poter fare in modo che sempre di più si possa incrementare un settore importante e allora abbiamo inserito nella proposta di legge anche l'aspetto formativo che è un aspetto di non poco conto. Fermo restando che oggi il turismo esperienziale è quello che più di tutti sta in crescita. Noi basta guardare il fatturato legato a tanti segmenti del turismo esperienziale e tra questi c'è l'olioturismo, l'enoturismo che oggi abbiamo approvato con il consigliere Petracca anche l'altra proposta di legge. Quindi oggi la legione campania possiamo dire si va a dotare di due leggi importanti che possono dare opportunità. La vera grande sfida è quella di fare in modo che il territorio diventi sempre più opportunità. Io penso che questa legge va esattamente in questa direzione, dare opportunità a coloro che vogliono investire su che cosa? Sul patrimonio che noi abbiamo, sul patrimonio agroalimentare, sul patrimonio legato all'olio, sul patrimonio rurale, sul patrimonio legato ai frantoi che sono stati recuperati negli anni. Ecco, l'olioturismo significa esattamente questo. E penso che oggi da una parte ci sono tante più opportunità per coloro che vogliono investire e dall'altra parte ci sono tante più opportunità di coloro che vogliono vivere, che vogliono immergersi in questa realtà e vivere appunto un'esperienza straordinaria che è legata appunto all'olioturismo. Quindi sono molto contento, ringrazio il consiglio regionale che all'onimità ha approvato la legge, le commissioni e coloro che hanno sottoscritto anche la proposta di legge. Penso che sia un bel momento per la nostra regione dove andiamo a mettere anche un tastello importante, a dare un'opportunità importante su quello che è la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio legato alla produzione dell'olio.